zio mi calo ok mi dici tu zio io c'ho la polizia oh zio zio oh zio sono scoppiati no sono morti zio c'è una mi butto e non mi fa buttare oh minchia una macchina come cazzo la trovo minnaia in casa mi tengo una cosa in mano c'è l'aereo e ti sto venendo a prendere mamma mia zio qua c'ho l'aereo zio qua c'ho l'aereo tutto rotto zio io t'ho visto oh dio ma che cazzo è arrivato il raggio minchia che bella la bestia zio stati per me che t'ho visto cioè non t'ho visto d'occhio chi è? ma che cazzo è sto qua uno mi ha ucciso ma no ma noia zio stati fermo là ma noia oddio è scoppiata una macchina tanto zio non mi ha uccionarmi male zio ma ci puoi venire a prendere tu oddio fermo e no perché c'è uno qua che mi va avanti e indietro è baffanculo bro siii mi uccide sto rincoglionito ma ora sono morto non so dove è la sua no prima l'ho uccido c'è uno che mi arriva con la macchina addosso ma hai uno online siiii fermo qua non mi può prendere qua non mi può prendere prendere la macchina un attimo aspetta zio bastardo ma non so manco dov'è non devi saperlo no ma c'è di nuovo vola vola ti metto sotto l'albero eeeh ma dove cazzo eeeh basta arruppisti eeeh vinci uno prende un ceccino ehi modalità fantasma non sono sicuro comunque questo è lo zio quanto ho capito è sopra di me è sopra di me si zio ti vedo ti vedo fermo sai che ti porto da un quad dio santo dio santo dio santo vai su questo quad vai su questo quad vai zio corri via ci sono le macchine oh dio santo ti vengo a recuperare nella tua strada sono zio aspetta sono quasi dietro di te vai zio che c'è una macchina vai 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 parti parti ti hanno ucciso zio adesso io vi devo seminare però me le sto andando più lontano possibile eeeh già non posso venire perchè ma c'è sta cosa qua c'ho tutte le ruote sporche tutte ma per il quad non le riesco a guidare wow grazie eeeh zio se lo sapessi zio se lo sapessi dove sono qua sono mischiato con montagna giardino sabbia deserto eeeh vaffanculo sono morto zio sono morto ma c'è uno che devo sconfiggere aspetta che c'è quello là mi prendo la moto zio questa parte è sicura no zio questa parte non è ma c'è no 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 c'è la polizia dietro no a me stante come faccio hai giri no non ci si ma c'è il saità per due c'è la zona fina io nelle due poche veloce me le devo fare eeeh no però come cazzo fa spermo mo li fa schioppiare dai aspetta c'è quello l'acqua da quel che parte brutto figlio di puttana ma ho visto bastardo zio se lo sapete dove siamo zio l'avevo preso l'avevo fatto morire l'avevo fatto morire noi ecco cosa mi lancia le bombe le bombe le bombe ben arrivato chiare si compra direttamente quella che scoppia capito zio ma io non so dove sei tu prendi il porto di qua eccolo no minchia mi gecchina mi gecchina sto rincolo zio non so come trovarti in nessun modo zio ma tu sei in città minchia ancora là no qua mi tira le bombe su babbo oh ma dov'è cosa no che cazzo dice l'imiterale il bagiucca zio ma tu dove sei zio tu trova me tanto ogni volta morirò questo riesce a combinare qualcosa dovrebbe difenderlo in qualche modo come mai muovi pao no ha puni ma pe viene eh però io mi prendo l'ascia tu ti prendi l'arma io mi prendo l'arma tu ti prendi l'ascia no no mi prendo l'arma che cazzo me ne vota me il pompa non c'è più colpi ne ho pochi così mi riusci prendo il cielo eccolo è brillante siamo tipo nel deserto non so ma cosa è il cielo eccolo seminiamolo che è giorgio metti la freccia in città giorgio metti la freccia in città giorgio metti la freccia in città bello zio 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 metti la freccia in città no ho messo la freccia a casa ecco bravo ok ma che cazzo si ammazzano da soli vai 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 ma io la puttana ha ammazzato questo zio ma tu sei morto forse la trovo io zio la motocross giorgio ti piace? se si fanno ammazzare così sono proprio dei babbi comunque mi sto bombardando ma io non ci voglio credere a quello che sta per succedere ma che cazzo giorgio dobbiamo andare a letto giorgio buonanotte buonanotte ehi signore con i bagagli non riesco a prenderti ma c'è niente di guidati buonanotte ciao ciao ma qui posso volare è stato dritto? piccola ma non lo sapevo che trapassavi pure le piante eccetera eccetera no troppo lontano drissi siamo arrivati male però siamo arrivati oh guarda questi stai lasciami stare devo prendere la capricola guarda è stato nando a me è andato vedi eccolo porco ho i missili torno perché ce l'ha con me? perché io ho fatto fatte una domanda date una risposta è il momento è il momento per andarla a prendere ma ti fermi ma chi sta proprio qua che mi aspetta ciao io resto qua dentro al sicuro no no così lui ha tempo di arrivare perché non hai detto il noto questo muto torna da me chi è stato? guarda sta ancora là no che stessa donna sono le stalle no c'è uno che ha moto volante basta come ha fatto? morto